Gamer anziani arrivano con milioni di follower e rubano la scena Buongiorno e bentornati al caffettino, io sono Mario Moroni e oggi vorrei parlarvi di gamer perché qui al caffettino si fanno ogni tanto delle giocate perlomeno a Luca Comics negli ultimi anni abbiamo anche presentato su Twitch tutto l'evento ma oggi vorrei parlarvi di anziani o diversamente giovani perché Shirley Carrey che vive in Ohio negli Stati Uniti ha 84 anni e ha cominciato a videogiocare online su YouTube bene, indovinate quanti follower ha? Un milione di follower è pazzesco, insomma se andate sul suo canale YouTube che fondamentalmente è molto semplice ricordare perché è il suo nome, Shirley Carrey, The Older Gamer chiaramente trovate gameplay di ogni tipo, tanti videogiochi RPG quindi fondamentalmente mondi, magie eccetera eccetera però il bello chiaramente è il fatto che Shirley non è la sola c'è un fenomeno in atto di videogiocatori, chiaramente non sono tantissimi ma cominciano ad arrivare che stanno facendo notizia e piacciono piacciono non soltanto agli adulti ma anche ai ragazzi, a tutti quindi un nuovo modo di comunicare e, secondo quello che dice anche Shirley di far passare il tempo se pensate che questa sia una notizia da prendere un po' sotto gamba così scherzando e ridendo andate a leggere l'articolo di Alessandro Di Stefano su Startup Italia che ne descrive i nomi, i comportamenti, le modalità ma pensate a quando parlavamo all'inizio degli anni 2000 dei social network e poi i social media e di come scherzavamo gli adulti oppure gli anziani che si iscrivevano ai social e che lo utilizzavano e diciamo chissà, ma sì, ma tanto alla fine il digitale e i social sono un ambiente da giovani, sono un ambiente da professionisti e invece, guardate oggi, è esattamente il contrario se andate su Facebook è pressoché un ambiente da anziani o da diversamente giovani insomma, sottovalutare anche questa nuova modalità di comunicare di una fascia di età chiaramente non così consueta almeno per quanto riguarda il digitale è un errore bisogna invece tenere sotto controllo tutto quello che accade e poi anche qui caso mai, insomma, ci voglia del tempo diventeremo anche noi anziani e andremo a videogiocare online quindi, al di là degli scherzi un fenomeno da tenere sotto controllo perché dobbiamo tenerlo sotto controllo noi imprenditori e professionisti? beh, semplicemente perché cambiano le piattaforme a seconda dell'età, a seconda degli ambienti a seconda di perché le frequentiamo quindi viva YouTube, viva Shirley e viva tutto il mondo chiaramente dei videogiocatori diversamente giovani e a proposito di tecnologia di startup la fonte di questo articolo è di Alessandro Di Stefano di Startup Italia che ritroveremo nella prima puntata di Live Show il prossimo giovedì 17 settembre alle ore 18 mi raccomando, segnatevelo e con questo abbiamo concluso anche il caffettino di oggi videogiocatori giovani, vecchi e futuri mi raccomando, ci rivediamo ci sentiamo come sempre ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 7.30 oppure sul canale Telegram Mario Moroni Canale un buon weekend a tutti